Ciao a tutti, allora io sono Deborah, volevo fare questo canale per parlare di libri ma per iniziare volevo fare un video tag così per chiacchierare un po' allora ho trovato questo che si chiama Fatevi i fatti miei l'ho trovato sul canale di Libreria Infinita e iniziamo sei stato chiamato così perché qualcun altro si chiamava con questo nome? no, io dovevo essere un maschio e dovevo chiamarmi Samuele invece, ebbene, sono Deborah, ma non c'è un motivo particolare quando è stata l'ultima volta che hai pianto? due giorni fa, perché ho litigato con mia mamma, ebbene sì qual è il tuo pasto preferito a base di carne? a base di carne niente, perché preferisco tutt'altro la pasta proprio devo mangiare carne e pollo ai figli? no, per fortuna se tu fossi un'altra persona, saresti amico di te stesso? modestamente sì sei una persona ironica? dipende dipende diciamo uniciamo uniciamo di sì hai ancora le tettonsille? sì e mi fanno anche spesso male faresti bansi jumping? assolutamente no sono una fiffuna da morire qual è il tuo cereale preferito? il mais ti slighi le scarpe prima di togliertele? no faccio come i bambini, le toglie senza slaggare il tuo gelato preferito? il cucciolone? tutti i coni, i gusti, la vaniglia, il tiramisù tutte le creme cosa notti come prima cosa nelle altre persone? questa è una domanda difficile io vado molto a pelle non è che c'è una cosa in particolare c'è davvero una faccia simpatica che cosa ti piace meno di te? mi piace meno di me che ho poca poca autostima e non so parlare in pubblico infatti alcuni qua cosa ti manca di più? cosa mi manca di più? in questo momento è il lavoro di che colore hai i pantaloni e le scarpe in questo momento? beh, ho i calzini e i jeans quindi le scarpe non ce le ho ho le pantofole e che musica stai ascoltando? nessuna se fossi un pastello che colore saresti? un pastello, no? in viola ma non è un pastello lo stesso profumi preferiti? non ne ho la vaniglia ma come candela qual è stata l'ultima persona con cui hai parlato il telefono? il mio ragazzo è un pastello preferito da vedere in nuoto mi piace vedere in nuoto in nuoto sincronizzato cose così e colore dei capelli quello che vedete colore degli occhi marroni indossi lenti a contatto no, penso di essere assolutamente non portata delle lenti a contatto perché bisogna non lo so non ha bisogna forse troppo precisi per tenerle metterle pulirle non sono cose per me si vi preferiti la pizza le patate i peperoni film horror o agli etofine? film horror ultimo film visto oh madonna e non mi ricordo come si fa non lo ricordo colore della maglia che indossi viola naturalmente estate o inverno e adesso inverno perché sinceramente ha voglia anche del freddo della neve io sono nata in dicembre quindi la neve è il mio abito abbracci o baci abbracci che libro stai leggendo? eh sto leggendo l'ordine della chiave di virginia di inter se si pronuncia così non lo so che cosa c'è sul tuo tappetino del mouse non uso il mouse cosa hai visto in tv ieri sera? non ho visto la tv ho guardato il telegiornale poi ho visto un pezzo di matilda poi ho messo messo a leggere i tuoi suoni preferiti i miei suoni preferiti non lo so possiamo dire mi piace il suono del del sassofono trollingstone o beetles beetles qual è il posto più lontano da casa che hai visitato? direi più lontano i caraidi hai un talento speciale il talento di rompere le scatole dove sei nato a l'elico terme che spero assolutamente che risponda a questo video non spero proprio niente mi va bene così sentitevi liberi ecco ho finito e la prossima volta speriamo di fare un tag che riguardi magari di più libri e niente alla prossima ciao ciao